12esima finale di Miss Gwen's Beach presenta Elisa Fagordo Buonasera, buonasera pubblico, ben arrivati, ce l'abbiamo fatta dopo un anno sulle più belle spiagge del Veneto a partire da Jesolo, Caole, Lido di Venezia, Bibbione, Sottomarina e Rosolina Mare siamo arrivati a realizzare la 12esima finale di Miss Gwen's Beach io voglio innanzitutto salutare tutto il pubblico qui presente un applauso per voi che siete qui a sostenere e a incoraggiare soprattutto le vostre Miss perché è vero che abbiamo una giuria ma come dico sempre il pubblico anche lui è giudice e sovrano e con gli applausi per la Miss che preferisce aiuterà sicuramente tutti i giurati a dare il voto migliore o diciamo più giusto magari piace una cosa con l'applauso vostro ne mettono un'altra un applauso anche per le nostre Miss fasciate 2021 perché signori queste sono le ultime ore per loro di Miss in carica l'anno scorso erano qui avevano le gambe che facevano Giacomo Giacomo e poi tutto quest'anno sono diventate delle vere modelle presentatrici, intervistatrici, ballerine insomma le avete viste sul palco hanno dato di tutto e di più insomma sono state bravissime io le voglio presentare tutte vabbè i nostri ballerini che tutti li vogliono ma ce li ho solo io Andrea Bagnoli istruttore di pop Giorgio Giaciglio, Alessia Leona, Alessia Alberti, Diletta Tosetto la nostra Miss in carica Emma Rossato, Eleonora Paduan, Diana Guina, Carlotta Callegano e il nostro ballerino Simone Berto eccolo qui grazie ragazzi allora andate pure a cambiarvi perché la serata è lunga noi dobbiamo fare un sacco di cose iniziare e insomma datemi la mano perché io ho una certa età e quest'anno sono arrivata distrutta alla fine della fiera quindi ogni tanto insomma anche posso dirmelo anche i migliori sostanti allora signori come voi sapete noi abbiamo fatto le selezioni non solo per le Miss ma già da un paio d'anni abbiamo il contest cantanti in ogni tappa si sono esibiti due cantanti con il loro brano inedito in ogni tappa c'era una giuria selezionata e diciamo che il giurato sceglieva uno dei due cantanti un cantante per ogni tappa è andato in semifinale la semifinale si è tenuta con Radio Wow il nostro media partner sul sito di Radio Wow c'erano tutte le canzoni con i videoclip inediti dei nostri cantanti e il cantante che ha ottenuto più visualizzazioni più ascolti insomma la canzone più scaricata ha vinto il contest cantanti e sarà il nostro cantante ufficiale partirà con noi in tournée per la nuova edizione 2023 e soprattutto dovrà fare la nuova sigla insomma forse alcuni di voi hanno già visto sui social hanno seguito sui giornali chi è la vincitrice di quest'anno perché è una lei noi ringraziamo la famiglia che hanno vinto l'anno scorso e la sigla che hanno ballato le nostre Miss era proprio la loro latina italiana e quest'oggi invece abbiamo una cantante io vorrei chiamarla subito qui sul palco Asuna in arte il nome vero Arianna Cappelletto eccola qui ben arrivata Arianna insomma 1529 ascolti cioè sei andata alla grande eh ma te lo aspettavi di vincere? no non me l'aspettavo perché comunque tutte le altre canzoni e tutti gli altri cantanti erano comunque molto vali non ce lo si aspetta mai non ce lo si aspetta mai però poi ce l'hai fatta ecco io ricordo che poi sono sempre ascolti unici quindi vuol dire che sono 1530 persone che ti hanno ascoltata è un bel successo anche per te dico bene? immaginarsene fisicamente queste 1500 persone sono tante sono tante sono tante sono tante allora guarda io ho qui la DJ la vocalist chiamiamola un po' come vogliamo il number one di Radio Wow la nostra Jessichetta Jessica Dalbo che è qui pronta per ufficializzare Asuna questa tua vittoria partirai in tour con noi nell'edizione 2023 so che lunedì eri anche in radio passata la tua canzone quindi doppia soddisfazione per te la vittoria del secondo contest cantanti ad Asuna con il brano Demone hai visto? che bello l'ho scelto io brava spero di aver avuto gusto Jessica allora seconda edizione ti passo il microfono Radio Wow è sempre al nostro fianco dà spazio sia alle ragazze ma anche poi ai giovani talenti intanto buonasera a tutti sì seconda edizione per quanto riguarda Radio Wow insieme a Miss Venice Beach noi invece ci conosciamo da molto più tempo Miss Venice Beach per Radio Wow appunto è stata una collaborazione che io ho fortemente voluto e fortunatamente anche tu Elisa è stato un gran successo lo scorso anno e quest'anno ancora di più se si può dire Radio Wow crede moltissimo nelle nuove voci nelle voci giovani anche per noi speaker e quindi abbiamo detto perché no perché non credere anche nelle nuove voci nelle voci dei cantanti emergenti io sono stata felicissima di avere Asuna ospite perché non solo è una cantante di grande talento ed è stato riconosciuto da tutto il nostro staff ma soprattutto una ragazza umile con tantissima passione per me è stato davvero un grandissimo piacere e onore ospitarla in radio e le auguro una lunghissima carriera che inizierà proprio a svettare che si può già dire così con la tournée di Miss Venice l'abbiamo detto anche in radio quindi incrocio le dita per te sai che sarò sempre una tua fan Grazie mille Complimenti complimenti Asuna grazie ci vediamo più tardi allora adesso l'abbiamo intravista prima nello spettacolo della nostra sigla iniziale accogliamolo con un caloroso applauso perché questa è la sua ultima sera da Queen di Miss Venice Beach Emma Rosciato grazie a tutti ecco la Emma questa posso dire è la tua prima passerella qui su questo palco da vincitrice perché l'anno scorso sul più bello che dovevamo premiarvi ha iniziato a dubbiare quindi abbiamo fatto la premiazione all'interno del ristorante M400 eccellente tutto lo staff del ristorante del Mosella Sweet Hotel che è stato davvero spettacolare però insomma la passerella sul palco e sull'acqua è la prima che fai sì infatti il più emozionante adesso è che che l'anno scorso com'è andato quest'anno? è stato un anno meraviglioso dopo sei cento mila volte mi sono divertita ho trovato una famiglia delle persone anche disposte ad aiutarmi a crescere perché se vedete un video mio inizio anno vedete un video adesso sono cambiata proprio drasticamente volevo infatti ringraziare Lisa perché veramente mi ha fatto vivere un anno spettacolare e non solo ovviamente non sei solo tu sono tutto uno staff dietro che mi ha seguito ha seguito me ha seguito tutte quante le ragazze bravissimi a tutti quanti niente sono emozionata va bene allora ti lascio andare un po' a buttare giù questa adrenalina a scaricare l'adrenalina perché Emma adesso è arrivato il momento di chiamare le nostre 27 concorrenti selezionate le più belle spiagge del Veneto e poi soprattutto anche con i voti online perché dobbiamo assegnare le quattro facce extra proprio qui sul palco e allora chiamiamo le nostre miss sul palco numero uno Ilari Bellocco numero due Laura Marzaro numero tre Vanessa Galli numero quattro Sara Fasi numero cinque Giulia Bampagin numero sei Sara Fortin numero sette Elena Fonda numero otto Martina Evatore nove Elena Cavazzina numero dieci Aurora Stocco numero undici Beatrice Zaduina numero dodici Giorgia Benetazzo numero tredici Veronica Gianna Trabuio numero fattordici Asia Bevere numero quindici Martina Saldolato sedici Laura Columba diciassette Nicole Terini diciotto Martina Pistolato diciannove Yelena Tufonic numero 20 Giorgia Ewer Oggio 21 Anna Maria Colun 22 Ruyana Danci numero 23 Arianna Devalier numero 24 Asia Bressan numero 25 Laura Libi numero 26 Alessia Gagliani numero 27 Anastasia Lavor 1 Lavor 1 Lavor 1 Lavor 1 Eccole le nostre concorrenti di questa sera, arrivano dirette da una settimana di reality ricca di corsi, lezioni, di approfondimenti, speriamo davvero di aver realizzato qualcosa di importante per loro, facciamo spazio che ce n'è una un po' fuori, eccola lì, però ce ne sono quattro di loro che vedete non hanno ancora la fascia. E' per questo che io chiamerei sul palco i referenti del Gazzettino, caporedattore della redazione di Venezia, mestre Davide Scalzotto, per Radio Wow Jessica Dalbo, il team di Gini Ferro Team e YouStyle Andrea Rigon. Eccoli qua, vieni Davide, ben arrivato, 12 anni di partnership con questo concorso che promuove la bellezza dell'emiso ma anche la bellezza a 360 gradi di tutto il territorio del Veneto, comprese le spiagge, l'enogastronomia ma anche l'artigianato. E il Gazzettino, il giornale più letto, il quotidiano più letto di tutto il Veneto, insomma non poteva che avere una partnership con noi e ne siamo davvero onorati. Sono 12 anni che alla fine del concorso, come fascia extra che permette alla concorrente più votata del nostro sito web di accedere direttamente alla finale. E quest'anno insomma ha davvero sbaragliato tutte le edizioni perché ha fatto ben 37 mila e quanti che non ricordo più, 38 mila e 76 voti, quindi dopo le chiediamo come ha fatto. E' arrivata il segno. Potrebbe candidarsi per l'inizio, si vota il 25 settembre, se ti canti, secondo me è buona possibilità. Potrebbe essere davvero di buon auspicio. Quindi siamo pronti per incoronarla la nuova Miss Gazzettino 2022, Vanessa Galli. Vieni Vanessa, eccoti qua. Allora mettiamo la fascia, benissimo. E la coroncina, gira gira gira. Eccola qui. Perfetta. Ottima foto di Rito. Davide. Complimenti, vai Vanessa, fai una passerella, fai una passerella che tu godi per il tuo momento. Vieni Jessica. Premiamo i talenti del canto, ma premiamo anche i talenti che insomma si sono impegnati in tutta questa edizione e ne abbiamo scelta una. Ebbene sì, ogni anno eleggiamo una Miss talentuosa, una Miss che insomma si è impegnata a farci vedere anche qualcosa in più della bellezza, anche se tutte sono super talentuose ad ogni tappa lo possiamo vedere. E quest'anno c'è stata una Miss che particolarmente ci è saltata all'occhio. Allora la premiamo subito, Miss Radio Wow 2022 con accesso diretto alla finale, Veronica Giada Trabuio. Eccoti, brava Veronica, ben arrivata. Eccoci qua. Coroncina. E anche per te è arrivato il tuo momento della passerella, vai mia cara. Grazie. Grazie a tutti. GD Ferro Team che ci segue con le dirette in tutte le nostre tappe e ci sta seguendo anche oggi, infatti salutiamo tutti i nostri amici in diretta che ci guardano comodamente dal divano di casa, con noi qui sul palco a premiare un ex Miss GD Ferro Team, anche lei arrivata in finale grazie alla fascia concessa dal team da Mario Bonesi, Andrea e tutto lo staff. Con la fascia di GD Ferro Team viene anche Emma a premiare. La confermiamo subito, siete pronte ragazze? Beatrice Zadoina! Beatrice! Beatrice sai che questa è una fascia importante perché sarai inviata di Mario per la nuova edizione, sei pronta a tutto questo? Proppo! Pronta? Troppo, troppo pronta! Quanto è il momento della passerella? Comprimente anche a Tamiatrice! Procediamo adesso alla Miss Sorriso con YouStyle Magazine, c'è qui il direttore Andrea Rigon, prego ragazze fatelo passare, prima fascia per arrivare in finale di quest'anno Andrea, vogliamo dire che cosa ha vinto anche questa nuova Miss, vieni pure nel centro. Allora, questa Miss, questa sono un'intervista, 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 un'intervista che si fa per una durata di sei mesi e per una caffa collante. Speriamo proprio che si sarà comunque, avrà una copertina sul magazine e insomma lavorerà poi con voi sul magazine di YouStyle. Quindi, chiamiamola, non la vedo, dov'è, 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 dov'è? Eccola, Giorgia Benetazzo! Giorgia Benetazzo! Ah, ragazzi, allora io con tutto il pubblico direi di farvi un grandissimo in bocca al lupo che vinca! Ma neanche la migliore, la più simpatica, la più talentuosa, quella che questa sera tirerà fuori la grinta e conquisterà tutto il pubblico qui al Mosella Sweet Hotel. Un grande applauso per le nostre Miss che vanno a prepararsi subito per la prima uscita, ovvero quella di primo impatto e di presentazione. Grazie ragazzi, potete, potete uscire e andare a prepararvi. Allora, mentre le nostre ragazze ci lasciano, ma sono subito pronte per ritornare, mi va, me la faccio anche io un po' questa bellissima passerella. Perché, insomma, a chi è che non fa voglia farsi una super passerella di 17 metri sull'acqua? E ora me la faccio pure io, eccolo qua! E venga a salutare tutto il mio pubblico, compresi quelli che ci seguono in diretta sul gazzettino.it e anche ovviamente su gtferro team, sulla pagina. Allora, signori, io faccio subito, ho fatto un gioco tutta quest'estate, eh? Allora, se non si applaudiva, bisognava? Bisognava? Oh, vedo che qualcuno se lo ricorda! Quindi, fatemi sentire l'applauso! Non era male! Bene, 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 ci siamo! Allora, vediamo che è pronta la nostra miss in carica, vieni Emma, goditi questi momenti perché, insomma, a mezzanotte facciamo come cenerentola, perdi la scarpetta. Allora, volevo innanzitutto ferma qui, sta già dandole, aspetta, aspetta che gli presentiamo i nostri giurati. Quindi inizierei da Lorena Di Valle, associazione, presidente dell'associazione culturale Olimpio, organizzatore della serata dell'evento. Eccola lì, diamo la scheda giuria. Poi abbiamo, presentiamo prima tutte le nostre donne. Elisa Zennaro per Lilith Bijoux, eccola lì in fondo. Poi abbiamo Jessica Dalbo per Radio Wow. Valentina Boscolo, titolare della Musella Suite Hotel, che dovrebbe essere, eccola lì, Emma, guarda lì in fondo. Eccola lì e poi passiamo agli uomini. Stilista di BGHY, Nicola Mattiazzo. Giuliano Marchesin, direttore, consorzio Sigillo Italiano. Per associazione albergatori di Chioggia abbiamo il consigliere regionale Marco Dolfina e Giuliano Boscolo. Eccolo qui. E poi abbiamo, ci sei Emma? Sono stata troppo veloce? Dimmi. Dopo lo chiamiamo sul palco Fabiano, eh? Figurati se non parliamo di consorzio Sigillo Italiano, della miglior carne che c'è. Io posso dire invidio un po' la Miss Consorzio Sigillo Italiano, perché gli arrivano sempre dei pacchetti favolosi di carne, ecco. Ma non è che poi posso fare anch'io la Miss e arriva qualcosa? Abbiamo anche qui il presidente di Consorzio Sigillo Italiano, anche consigliere della regione del Veneto, Fabiano Barbisanna. E poi abbiamo il gazzettino, eccolo qui. Vi do una scheda, la condividete. Davide e Davide, Davide De Bortoli e Davide Scalzotto. Eccoli qui, quindi siamo pronti per iniziare. Ringrazio di nuovo tutti i nostri partner, perché è doveroso, perché è solo grazie a loro che in tutti questi anni ci hanno seguito e sostenuto e supportato. Iniziare dalla regione Veneto, la Mosella Suite Hotel, Consorzio Lidi di Chioggia, l'Associazione Albergatori e Federalberghi Chioggia e Sottomarina, Gioielli Leonardo, EIWA Sport & Spa, Campello Moto, scusate, eccoci qui. Gelè Bikini, Lilith Bijoux, Togi Fashion, Les Amis Toujours & Boutique, BGHY, Starline Italia, QM Vision Academy per l'air style, Hotel Letegno e Artigianato Muranese, che ha realizzato il nuovo scettro per la nuova Miss 2022. Per il food ringraziamo Corai, Consorzio Sicilio Italiano, i Pescaori, i Fasolari, Cantina Vini, i Fioravanti Onesti, i nostri media partner, Gazzettino, Radio Wow, GD Faro Team, Best Magazine e You Style. Giorati, primo voto dall'1 al 10, il voto di primo impatto di presentazione, le nostre Miss le conosciamo proprio in questo momento e ci racconteranno qualcosa di loro. La numero 1, Ilari Bellotto, 1,65 m, arriva da Treviso, 19 anni, del segno della Vergine. La numero 1, Ilari Bellotto, 1,65 m, arriva da Treviso, 19 anni, del segno della Vergine. E' arrivata Ilari, questo è il tuo microfono. Allora magari raccontiamo qualcosa di te, cosa fai nella vita? Attualmente lavoro in una pizzeria, in una pasticceria, e visto appunto che ho finito l'arberghiero, diciamo che stanno andando a stare a stare a stare a stare a stare a stare. Quindi da grande cosa vorresti fare? Beh, continuare su questo settore sicuramente, perché mi piace molto avere l'interazione con le persone, stare con loro, mi diverto proprio. Bene, allora diciamo che siamo sulla buona strada, che ben comincia a metà dell'opera. Come ti descrivi a questo pubblico per farti conoscere un po' meglio? Sicuramente sono una persona molto solare e succevole assolutamente, per stare con le persone. E nulla, mi piace, sono davvero contenta. Sei davvero contenta? E allora, siamo contenti anche noi, Ilari, di averti qui. Mi piace, mi piace questa tua genuinità e questa spontaneità. Sei pronta per tutte le altre uscite? Qui poi abbiamo posa fotografica e portamento, eh? Esatto. Bisogna darci dentro al massimo. Sono pronta. Sei pronta? Bene, allora in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie. Numero 2, Laura Marzaro, 1,65 m, arriva da Scorzè, 24 anni, del segno del cancro. Grazie a tutti. Super sorridente, cosa fai nella vita? Io faccio l'impegata commerciale. E da grande vorresti? Sono già grande. Dai, le scenè di strada. Fai carriera comunque nel tuo lavoro, beh, bene, mi piace. Come ti descrivi a questo pubblico, a questa giuria, per farti conoscere? Estroversa? Super simpatica? Cosa ti è piaciuto di più di tutta questa settimana? Beh, i corsi sono stati eccezionali. Hanno proprio cambiato, insomma, l'andamento di questa... Ti senti migliorata? Assolutamente sì. E allora vogliamo vederti calcare questa pastarella come una vera top model? Assolutamente. Grazie Laura e buona continuazione. Numero 3, Vanessa Galli, 1,65 m, arriva da Agna, in provincia di Padova, 15 anni, del segno dei pesci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, Vanessa. 38.076 voti, non finiremo mai di dirlo. No, ma allora, guarda, prima di raccontare cosa fai nella vita, voglio capire come hai guadagnato tutti questi voti. Diciamolo, diciamolo, qual è stato il tuo segreto? Principalmente nei social. Ok, e voi nei centri di connessi. Dovete pensare che Vanessa è andata con la mamma al centro commerciale lì sabato e la domenica, dico bene, a chiedere alla gente che passava di aiutarla ad arrivare in finale. Quindi insomma, chapeau Vanessa, complimenti, complimenti. Cosa fai nella vita? Nella vita, studio, liceo artistico e soluzione. E da grande vorresti? Non lo sai ancora, non lo sai ancora, ma non hai un desiderio nel cassetto da voler realizzare? Beh, allora, dai allora, insomma, proviamoci, bisogna crederci fino in fondo. Com'è andata con questi corsi? È andata bene, sì. E sei stata soddisfatta, bene, questo ci fa piacere. Come ti descrivi a questo pubblico? Sono una ragazza solare e molto distante. E allora, sei pronta per le altre uscite? Sì. Carica 100? Carichissimo. E allora, in bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Grazie. Numero 4, Sara Fasi, 1,65 m, arriva da Conegliano, 20 anni del segno del cancro. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Sara mi diceva da dietro le quinte, fammi ridere quando salvo, che sono emozionata. È vero, è vero. Ma sei ancora emozionata come prima o ora sei un po' più tranquilla? No, no, non lo sento, però mi voglio divertire, mi diverto e quindi... Ma lo stiamo in contanta. Ah, beh, si speriamo di bruciare le dita, finger cross, bruciare anche le gambe. Sara, cosa fai nella vita? Studio terapia occupazionale a Conegliano, che comincia di previsto. E da grande vorresti? Lavorare con delle persone che hanno difficoltà, principalmente con i bambini. Ah, bene, mi fa molto piacere. E tu che hobby hai? Spero. Se non ricordo male, avevi portato qualcosa nella selezione, no? Cosa hai praticato? Il nuoto sincronizzato è il mio sport da quando ero bambina e quest'ultimo anno che non l'ho praticato, un po' mi è mancato, però... Vado in palestra. Ah, vabbè, in qualche modo recuperiamo. Come ti descrivi a questo pubblico? Sono abbastanza complicata. Bene. Sono storaria, ma contemporaneamente lunatica, permalosa, le appunte. Ah, vabbè, sei fidanzata? No, no, no. No, meno male, perché sono un povero questo santo uomo che non era soffortare la tua lunacità. Dite bene. C'è il papà di Sara. C'è il papà. Dove è il papà di Sara? A Parigi. Come a Parigi? Chi c'è Sara qui con te? Una delle mie mie amiche è la mamma. Eccola, eccole qui in fondo, eccole, eccole, eccole. Va bene, insomma, è vero che è lunatica? Sì. Sì, confermano. Sei pronta per tutte le altre uscite? Sì. Sei carica mille pure tu? Sì. E allora in bocca al lupo e buona continuazione. Ciao. Numero 5, Giulia Pampaglini, a 1,68 m, arriva da Padova, 18 anni del segno dello scorpione. Sì. 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 Che pensa? Il 5 e il 3 sono anche i miei numeri fortunati, quindi insomma mi stavo dimenticando, no? Cosa fai nella vita, Giulia? Allora, io mi sono prima diplomata, ora inizierò l'università, quindi... E cosa studierai? Biologia, perché sono molto portata nelle materie scientifiche. Ah, bene, ecco, al contrario, io ho 100 lingue proprio perché non volevo fare niente in francese, niente in matematica, niente in geometria. Quindi va bene, perfetto. Potremmo andare d'accordo, io faccio una cosa... E tu implementi... E fai una cosa, bravissima. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, sono una ragazza ambiziosa, raggiante ed estroversa. Raggiante ed estroversa, hai anche tu una passione particolare? Sì. Cosa fai? E sono una ballerina di ballo latinoamericano a livello agonistico. Infatti un giorno mi piacerebbe entrare a lavorare nel mondo dello spettacolo e della moda come ballerina e anche fotomodella. Ah, bene, insomma, allora, in bocca al lupo questi corsi pensi ti siano serviti? Tantissimo, molto interessante, devo dire. Bene, allora sono molto contenta. Buona continuazione, anche tu carica a 10.000 per le altre uscite perché vogliamo vedermi davvero volare su questa passarella. Grazie Giulia, buona continuazione. Numero 6, Sara Fortin, 1,68 m, arriva da Padova, 16 anni, del segno dell'acquario. Grazie a tutti. Ben arrivata, Tassu, di cosa fai nella vita? Allora, io domani inizio la quarta superiore e studio relazioni internazionali per il marketing e come c'è il mio tempo libero lo passo praticando a palla fuori. Ah, beh, brava, insomma. Ma da grande cosa vorresti fare? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto sarebbe aprire un'azienda a moda. Ah, che bello. Cosa vorresti realizzare? Dei vestiti da sera perché mi sono resa conto che quando vado in giro non trovo bene. Beh, devo dire che questa è una cosa davvero interessante. E a quale stilista ti ispiri? Hai qualcuno in particolare che ti piace? No, perché, cioè, sono una ragazza molto semplice, mi piace un'azienda troppo particolare in un'azienda. E quindi devi creare proprio una linea tua. Bene, saremmo curiosi di vedere. Guarda, qui abbiamo anche la stilista Anna Todesco e Sofia. Magari vi serve un aiutante. Si sa mai che con l'esame magari una nuova leva può disegnare qualcosa, no? Come ti descrivi a questa giuria? Sono una ragazza solare, impulsiva e molto esperta. È andata bene in questo reality? Hai legato con le tue colleghe? Sì, sì, ho legato molto. Sei pronta però a dare il massimo per arrivare alla vittoria? Certo. E allora in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie. Numero 7, Elena Porta, 1,68 m, arriva da Albignase, con 18 anni, del segno del leone. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Com'è di essere qui sopra su questa passerella? È sempre un'emozione. È come la prima volta. Eh. E poi si è trovata bene quindi sei ritornata. Esatto, si sa sempre dove si sta bene. Eh certo, per forza. Cosa fai nella vita e cosa vorresti fare un domani? Allora domani incomincio l'ultimo anno di liceo classico. Aspita, quindi c'hai gli esami il prossimo anno, eh? Corono un percorso che mi ha cresciuto e spero di concluderlo nel migliore dei modi. E il sogno del cassetto è quello di diventare pediatra, quindi prestando aiuto ai bambini. Anche tu hai varie passioni nella vita, cosa fai? Faccio ginnastica ritmica, l'ho fatta fino ad adesso. E sono al conservatorio di Padria, il pianoforte, e l'anno prossimo mi diplomo. Oh bravo, complimenti, complimenti. Come ti descrivi a questo pubblico? Sono carismatica, divertente e determinata. La cosa che ti è piaciuta di più in questo reality? L'armocromia. Ho scoperto una cosa nuovissima. L'avevo sottovalutata, i colori li avevo sottovalutati, ma... E adesso ti hanno cambiato la vita. Esattamente, sì, una nuova visione, un nuovo modo di vedere il mondo. In bocca al lupo anche per te. Mi raccomando, grinta sulla passerella e buona continuazione. Grazie mille. Proseguiamo con la numero 8, Martina Evatore. 1,69 m arriva da Padua, 20 anni del segno dell'acquario. 1,55 m arriva da Padua, 21 anni del segno dell'acquario. Diceva un film Lo sono sempre Non lo sai sempre Cosa fai nella vita? Studio biochimica Io faccio patinaggi sul ghiaccio Da circa due anni a livello agonistico E danza del ventre Anche in questi due anni Sempre a livello agonistico Ma hai vinto qualche cosa? Sì, ho vinto le regionali Brava, complimenti Martina E da grande vorresti? Da grande vorrei fare la biologa Perché sono molto concentrata Su tutto ciò che riguarda l'ambiente La salvaguardia degli animali Quindi diciamo che sei proprio perfetta A tema con quest'anno anche di Miss Vanisvice Che ha promosso davvero la sostenibilità ambientale In tutte le varie tappe Anche coinvolgendo i partner di Cappello Motors Con l'X Mobility Con tutte le vetture 100% full elettriche Auto, motorini, moto e anche biciclette Quindi cadi a pennello Martina Bene, come ti descrivi a questo pubblico? Penso che l'aggettivo più appropriato per descrivermi Sia che do la mia forza agli altri Dai la tua forza agli altri Bene Riesco a trasmettere la mia forza agli altri E sei carismatica Mettiamola così Mettiamola così Molto energica Entusiasta sempre di tutto E sei pronta entusiasta per calcare la passerella? Sempre estroverso Sempre estroverso Da uno che doveva descriverti ne abbiamo elencati 5 o 6 Però va bene, non importa Ci sta, ci sta, ci sta Qual è il corso che ti è piaciuto di più? Devo dire, quello di portamento mi è stato molto molto utile Ringraziamo Sandra Ringraziamo Sandra, grazie Sandra E devo dire, mi ha molto aiutato con l'ansia Mi sento molto più tranquilla Allora non diventare tranquilla Perché qua dobbiamo dare il massimo Tieni ancora l'adrenalina a 100 Perché vogliamo davvero vederti anche a te Tirare fuori il massimo su questa passerella Va bene? Sei pronta? Sempre Sempre, nata pronta Grazie Martina, buona continuazione Numero 9 Elena Cavazzina 1,68 m arriva da Padova 18 anni del segno dell'acquario Ciao! Ben arrivata Elena, cosa fai nella vita? Buonasera a tutti Io inizierò il quinto anno al liceo scientifico Quindi nella vita sono ancora una studentessa E non vedo l'ora di finire le superiori Per poter iniziare ciò che reputo il mio sogno Ossia lavorare nel mondo della moda Desidero molto trasferirmi a Milano Che è il fulcro di questo mondo E vorrei lavorare più precisamente come fashion manager Ho già visto che tocca più tasselli di questo ambito Che mi ha interessato molto E che ovviamente mi ha attratto ancora di più Grazie a questa esperienza bellissima Grazie insomma, grazie a te che ci fai tutti questi complimenti Insomma Come ti descrivi a questo pubblico? Elena Io sono una persona dinamica Infatti non sopporto le situazioni statiche Cerco sempre nuovi stimoli Perché ritengo che una persona Per sentirsi viva dentro Ha bisogno di vivere anche fuori Quindi di vedere sempre cose nuove Approcciarsi a nuove esperienze Sono anche responsabile Infatti il problema di cuore delle altre persone Sono sempre disponibile A volte anche un po' troppo Però diciamo che è un punto di forza A mio parere Meglio avere un grande cuore Che tirarsi indietro Che non è mai indietro Il corso che ti è piaciuto di più? Allora Il corso Ce ne sono due Non saprei bene quale scegliere L'armocromia Oppure il corso di portamento Perché il corso di portamento È stato veramente molto utile Mentre l'armocromia Mi ha aperto un nuovo mondo Che appunto non conoscevo L'avevo sentito nominare E adesso si sa di chi può Insomma Vorrei sapere di tutto e di più Sei pronta per questa passerella? Assolutamente sì E allora carica Accento anche tu Buona continuazione In bocca al lupo Elena Grazie Buon divertimento Numero 10 Aurora Stocco 1,70 m Arriva da Villa del Conte 16 anni del segno del leone Grazie a tutti Aurora Cosa fai nella vita? Nella vita Studio presso il liceo delle scienze umane Infatti Da grande Vorrei proprio diventare la maestra Presso delle elementari Appunto Perché Adoro i bambini Scusate Non ti preoccupare Capita sempre È un po' di emozione È bello perché ti fa sentire Che sei viva Ti fa gioire ancora di più Di tutte le cose Che succedono in questo momento Quindi Da grande vorresti fare la maestra elementare Però mi piacerebbe anche Continuare nel campo della moda E poi fare Sipidate Bene Noi te lo auguriamo Indurciamo le dita Come ti descrivi a questo pubblico? Beh Sono una ragazza Solari Traprendenti Ed energica Hai qualche hobby particolare? Sì Anni del segno dei gemelli Anni del segno dei gemelli Ciao a tutti Sì Voi da grande vorresti? Da grande mi piacerebbe molto per me un mio marchio di lingerie per donne. Che bello, di lingerie, come mai? Perché penso che rendi una donna molto attraente, però anche diciamo sensuale e tutto quanto. Mi piace, mi piace il mondo della lingerie, sarà la tua prima cliente, va bene? Sì, ti creo un lingerie, ho dato solo per te. Come me lo vedresti addosso? Una cosa... Dobbiamo lavorarci un attimo, però... Sì, dobbiamo lavorarci un po', è sicuro. Quello sì, però va bene, dai. Da puntare non sono. No, meno male, meno male. Non lo stai dicendo, no? Beatrice, come ti descrivi a questo pubblico? Sono una ragazza molto intraprendente, solare e... A volte anche... E anche misteriosa, quindi... Mi hai potuto andare a scoprire. Ecco, e allora speriamo di scoprirti al meglio in tutte queste sfilate in questa serata. Tu sei pronta? Prontissima. E allora ti vogliamo vedere in passerella. Grazie Beatrice, buona continuazione. Numero 12, Giorgio Benetazzo, 1,70 m, arriva da Solisino, 21 anni del segno dello scorpione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dimmi quando sei soddisfatta. Eh, finalmente, speriamo che questi saranno buono. Dopo un terzo tentativo, questo veramente spero di farcela. A parte che comunque ho già ottenuto una faccia davvero importante, assolutamente, e ne sono fia. Bene. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, mi descrivo come una persona impulsiva, determinata e solare. E cosa fai nella vita e cosa vorresti fare? Allora, nella vita sono una studentessa universitaria. A ottobre inizierò il terzo anno di mediazione linguistica con specializzazioni in cui si si managgiano. A Barba. E vorresti diventare? Eh, in un futuro mi piacerebbe molto diventare un'imprenditrice, tipo nel campo della moda, quindi comunque proseguire nell'ambito. Beh, insomma, incrociamo le dita. Speriamo bene. I corsi ti sono serviti di questo reality? Quello più bello? Allora, me ne sono piaciuti due, portamento e anche il corso di nutrizione, veramente molto interessante, diverso. Bene. Salutiamo sia Cristi, anche Arianna che insomma hanno ottenuto il corso di fitness e di nutrizione, eccoli lì. Pronta e carica? Sempre carica. E allora in bocca al lupo ti scopriremo solo vivendo. Grazie Giorgia. Numero 13, Veronica Giada, tra buio, metro e settanta, di piove, di sacco, manattiva, di chioggia, di giottanni, del segno del pesci. Ben arrivato, Veronica. Buonasera a tutti. Come ti descrivi? È dinamica e ambiziosa. E da grande vorresti? Andaresti in alcune scuole e da sì. Ma già lo fai? O studi? No, no, studi ancora, domani inizio l'ultimo anno di 101. Sei pronta per iniziare? Che direi ai tuoi compagni che diranno, ah cos'hai fatto quest'estate? Ah, sono andata a fare la finale di Miss Venice. Eh? Sì, il mio primo contest. Che ti hanno detto? Non ho neanche ancora detto nulla a nessuno. Come? Non ti hanno visto su Instagram? Non mi hanno visto su Instagram, però non ho ancora detto nessuno. Ho capito, ho capito. Il corso che ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto quello di Miss Aventura, che siamo andati in giro vicino. Diciamo che tu facevi un po' da cicerone, perché ovviamente, e di questo dobbiamo ringraziare l'associazione Albergatori con il presidente Giuliano Bosco Locegiona, perché ti è piaciuto di più di tutto il corso di Miss Aventura. Quindi è proprio grazie a loro che l'abbiamo portata a conoscere in giro la città di Chioggia. L'abbiamo portata sia in bicicletta che in barca alle Tegnue, che è una barriera corallina, una delle più belle qui nell'Alto Adriatico, ed è proprio a Tremiglia dalla costa. E poi alcune le abbiamo piattate in cucina. Bene, sei pronta e carica? Prontissima. E allora in bocca a lungo e buona continuazione. Grazie. Grazie Veronica. Numero 14. Asia, bevere, 1,70 m da Bassano del Grappa, 21 anni, del segno della bilancia. E allora in bocca a lungo e buona continuazione. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. No, no, mai nella vita. Al momento nella vita sto cercando di diventare fotomodella. Beh, insomma, hai già iniziato un po'. Sì, ho già iniziato un po'. Piano piano. Piano piano. I nostri fotografi hanno detto che sei stata davvero molto brava nello shooting fotografico. Ringraziamo il fotografo che ha vinto il contest di quest'anno. Buon tardi lo vedremo anche sul palco. Massimo Balestrieri. Dov'è Massimo? Un applauso. Eccolo. Eccolo lì. Complimenti. Anche lui ha fatto lo scatto migliore, che è piaciuto di più a tutto il pubblico. E questo gli ha permesso di diventare il nostro fotografo ufficiale per la nuova edizione. Invece quello di quest'anno, che ha realizzato le foto, le locandine e il calendario, è Paolo Stramare. Un applauso anche a lui. Ho fatto una piccola parentesi. Asia. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, mi descrivo troppo buona. Sensibile, ma allo stesso tempo coinvolgente. Perché mi piace sempre conoscere le persone. Bene. Qual è il corso che ti è piaciuto di più? Il corso che mi è piaciuto di più è stato quello di fitness, anche se è stato molto faticoso e non sono riuscita a portare a termine tutti gli esercizi. Però è stato quello più divertente, quello che ti è piaciuto di più. Sì, sì, mi fa piacere. Ecco Arianna, la nostra insegnante di fitness. Arianna, e sì che avevamo detto di farlo facile questo circuito. Qua non ci sono più le giovani di una volta. Va bene, Asia, sei pronta? Prontissimo. E allora, in bocca al lupo, incrociamo le dita e ci vediamo più tardi. Buona continuazione. Numero 15. Martina Sartorato, 1,70 m, arriva da Casalsi e Rubo, 17 anni, del segno dei Gionelli. Bella arrivata Martina. Martina è bella, è tutta contenta. Sei soddisfatta? No, ma sì, guardalo. Prima volta Martina abbiamo fatto la passerella assieme, perché era proprio il tuo primo concorso. Non avevi mai spilato, non sapevi come fare oggi. Guardati un po' come sei andata spedita. Ti sono serviti i corsi? Soprattutto con la natura. È stato quello che ti è piaciuto di più? Sì. Sì, bene, mi fa piacere. Come ti descrivi a questo pubblico? Determinata, che sbarga e collaborata. Adesso nella vita cosa fai e qual è il tuo concorso? Adesso sto in relazioni internazionali per il matrimonio, però mi piacerebbe lavorare e non è molto sportiva, siccome non è altro. Cioè cosa vuoi fare? La personal trainer, l'istruttrice, la sportiva, la sportiva, c'è infatti il kickboxing. Eh, ricordo bene che fai kickboxing. Ricordo bene, hai stesso il nostro cantante o no? Sì, diciamocelo, diciamocelo. Va bene, sei carica per questa serata? Sì, sì. E allora in bocca al luco e buona continuazione. Grazie Martina. Numero 16, Laura, Colomba, 1,70 m, arriva da Padova, 21 anni, del segno dei gemelli. Grazie a tutti. Buona sera Laura. Buonasera a tutti. Cosa fai nella vita? Nella vita sono una studentessa di scienza motorale. E da grande vorresti? A dai miei obiettivi sono sicuramente di lavorare come personal trainer e di laurearmi il prossimo anno. E poi... Vedi, com'è andata col corso della nostra personal trainer di Arianna? Com'è andata? Benissima. L'hai portato a termine? Ovvio. Ah, meno male, meno male, meno male. Come ti descrivi a questo pubblico? Mi descrivo che una ragazza è sincera, altruista e ambiziosa. Bene, ci piacciono questi aggettivi. Vuoi dire qualcos'altro di te? Aiuto, no? Giusto così? Spero... Come... Questa per te è la seconda volta, no? Sei arrivata in semifinale, tante che hanno riprovato a rientrare fino ad oggi sono riuscite. Come te la giochi quest'anno? Allora, Miss Pennis è stato il mio primo concorso, è iniziato tutto l'anno scorso appunto e mi ha cambiato moltissimo. Sono cresciuta tanto, cioè i corsi servono veramente tanto e per dirvi, l'anno scorso non mi ero mai toccata. E guarda quest'anno che infatti stavo... Mi abbagliavi, prestiti luce proprio con tutti quelli... L'hai fatto tutto da sola? Sì, sì. Complimenti, quindi insomma anche il corso di trucco di make-up è servito. Grazie a Luana Burigotto, salutiamola, la nostra prof di make-up. Ecco, quindi complimenti, complimenti. Laura, sei carica per dopo? Caricissima. E allora ti lascio andare, carica come sempre, perché ci sono altre tre uscite a mia casa. Buona continuazione. Buona continuazione anche a te. Numero 17, Nicole Perlini, 1,72 m, arriva da Mestre, 19 anni, del segno dei gemelli. Buona continuazione. Buonasera a tutti. Cosa fai nella vita? Sono la studentessa, sono appena... Com'è andata? Senchiona? No. Eh, qua, cascala, sento qua qua? No, l'hai già chiesto. Teto, no, lo voglio risapere. 86. Dai, vabbè, è andata, è andata bene, dai. Sì, sì. È andata bene. E adesso cosa, che cosa hai in programma? Vai all'università? Sì, a Padova inizierò a studiare scienze della comunicazione. Diciamo che esco un po' dalla mia zona comune. Eh, bisogna ogni tanto nella vita, bisogna un po' essere ambiziosi, di restarsi così un fuoco nel vuoto per arrivare a raggiungere nuovi obiettivi, no? Eh, sì, materie nuove, dai. Dai. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, dolce, sincera e sognatrice. E dopo l'università che vuoi fare? Eh, mi piacerebbe lavorare in ambito pubblicitario, magari, sempre in ambito della comunicazione. Magari mi appassiona anche di più studiando. E poi, anche, magari, lo vediamo di studi, come lavorare, come lavorare, come modella, come modella o... Eh, bene, insomma, hai, diciamo, un bel carnet di scelte di fronte a te. Ok, corso che ti è piaciuto di più? Quello di make-up. Quello di make-up. È stato molto pronto. Bene. Sei pronta? Ti faccio andare? E allora vogliamo anche a te veder di dare il massimo su questi 17 metri sull'acqua. Buona continuazione. E bocca al lupo. E a te. Grazie, Nicola. Numero 18, Martina, pistolato, 1,72 metri, arriva da Mire, provincia di Venezia, 18 anni, del segno dell'acquario. Grazie a tutti. Nostra rossa di fuoco, Martina, buonasera a tutti. E allora, com'è andato quest'anno? Cioè, quest'anno hai vinto una tappa, eh? In serata, in selezione. Te lo aspettavi? No, è stato veramente bellissimo. L'emozione. Da ripetere. Da ripetere. E' vero, brava Martina. Guarda, sognare è la cosa più bella e poi quando un sogno ci crede diventa realtà. Quindi crederci sempre a rendersi mai. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa, frequento il centro di città umane e domani metri l'olio. Sei pronta? Vabbè, dai, dì ai professori che hai fatto gli speni, sei plena, insomma, ecco. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, sono solare, sono pianta, ho prego energia. E da grande vorresti? Eh, fare la maestra dell'infanzia. Beh, è un bel compito, eh? Sì. Non è una cosa semplice. No, per niente. Quindi diciamo che se qua c'hai un po' di strizza, un po' di adrenalina, lì devi avere ancora di più, eh? Sei pronta a tutto? Prontissimo. E allora, quando il gioco si fa duro e duro, iniziano a giocare, iniziamo questa sfida. Iniziamo questa sfida. Grazie Martina. Grazie mille, buona serata. In bocca al lupo, buona continuazione. Numero 19, Jelena Tufonici, 1,72 m, arriva da Musile di Piave, 21 anni del Sede del Capricorno. Grazie mille. Eccoci Elena, ben arrivata. Anche poi hai vinto una tappa, quella di Bipione. È il primo concorso che facevi, se non ero, no? Come ti senti? Agitata, però contenta. Bene, l'importante è quello. Come ti descrivi a questo pubblico? Gentile, empatica e determinata. Cosa studi o se sei lavori e cosa puoi fare da grande? Allora, studio mediazione linguistica con specializzazione in criminologia a Padova e da grande devo ancora decidere, però sto pensando di provare a fare l'interprete. Beva, quante lingue conosci, Jelena? Un bel po'. Eh? Penso siano sei. Il serbo, l'italiano, il nero, l'inglese, il tedesco e il russo. Brava, complimenti. Grazie. Una misa dalle mille risorse. Qual è il corso che ti è piaciuto di più? Quello che ti è servito di più o che forse ti ha migliorato? Allora, quello di armocromia e anche quello di fitness era molto bello, però impegnativo. Eh, caspita, l'hai portato a termine? Sì, sì. Bene, con i colori invece, il tuo guardaroba, fila o dobbiamo chiamare l'aiuto da casa e cambiare tutto? Per adesso va bene. Però adesso va bene, meno male, i papà di Jelena e la mamma dove sono, siete salvi. Sei pronta e carica per questa passerella? Sì, assolutamente. E allora, in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie. Grazie, Jelena. Numero 20, Gioia e Uere, oggi a 1,73 m di Povegliano, in provincia di Treviso, 18 anni del segno del leone. Grazie a tutti. Gioia, come sta andando finora questo reality? Ti è piaciuto? Tantissimo. Ti ha soddisfatta? Sì. Bene, allora, che cosa fai nella vita e cosa vorresti fare da grande? Che nome è il test? Di marketing, sono a vita superiore e da 1,5-2 anni ho iniziato a lavorare, faccio la cameriera, lavoro come fotomodella, facendo foto foto per prodotti abbigliamento e commerce e faccio l'ostra. Ah, bene, in bocca, brava, brava, mi piace. Le nostre misi intraprendenti, insomma, che si approcciano al mondo del lavoro. Come ti descrivi a questo pubblico, insomma, per portare a casa il risultato? Insomma, ragazzo molto giusto, il mio nome è solare, energetica e molto positiva. Il corso che ti è piaciuto di più? Tutti sono stati bellissimi, bellissimi, ma particolarmente il corso di portamento e l'alimentazione. Sto finalmente molto molto bene. Bene, sono contenta, sei pronta per calcare questa passerella come una vera pantera? E allora, in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie, gioia. Numero 21, Ana Maria Colunno, 1,74 m, arriva da Calpalto, 19 anni, del segno dei gemelli. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Cosa fai nella vita? Nella vita studiando lo sanzionale, l'ecologo sociale e faccio impazzire i miei genitori. Ecco, dove sono i genitori? Ma è vero, vi fa diventare matti? A volte. Anche a noi un pochettino, eh? Allora, come ti descrivi, visto che sei birichina l'abbiamo capito? Birichina, un pochettino. Un pochettino. Prendente perché quando vado in ciasi impressioni faccio divertire tutti. Questo è vero, concordo. E determinata. E determinata. Questo ci vuole, eh? Nella vita bisogna essere determinati per raggiungere gli obiettivi. Da grande cosa vorresti fare? Vorrei fare qualcosa di più del mio papà, che è fatto un po' troppo, diciamo. Cioè, tu vuoi fare ancora di più? Eh sì, per forza, devo sperarlo. Ah, è una sfida allora questa, è una guerra tra in famiglia, no? Bisogna ottenere una sfida. Va bene, quindi che ti aspetti? Non lo so, vorrei diventare un'attrice o iscrivermi a criminologia, però. Beh, va bene, sono due belle strade, eh? Il corso che ti è piaciuto di più? Allora, quello di portamento perché mi ha dato un sacco di sicurezza. in più, essendo il primo corso, quel corso, scusami, di questo, perché a cui partecipo appunto. E quello appunto del fitness, anche se non ce la facevo, non ce la faccio. Però ti è piaciuto? No, 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 l'importante è quello. Sei pronta e carica? Hai raccimolato tutte le energie? Certo. E allora, Anna, in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie mille e buon appetito a tutti. Grazie. Numero 22, Uyam Tanji, un metro e settanta cipa da piove di sì. Cappo, 17 anni, del segno dell'acquoagio. Grazie. 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 Non sono ancora sicura, non ho ancora deciso, non ho ancora fatta salata. Però hai le idee decise, l'avvocato, quello è sicuro. Sì, quello è sicuro. Quindi come ti descrivi a questo pubblico? Testarda, determinata e estroversa, essendo che parlo pure con i muri. Con i muli o con i muri? Muri. Con le remuscia. No, vabbè, ma poteva essere come anche i muli, sono testardi gli asini. Ho detto, magari ci parla. Sì, ci andrei anche d'accordo. Ci andrete pure d'accordo. Bene, Uyama, qual è il corso che ti è piaciuto di più? Assolutamente cucina. Cucina, perché ti piace cucinare. Ecco, diciamolo ai nostri preferenti di costruzione di giro italiano. Uyama ha realizzato una nuova battuta al coltello che dobbiamo proporre oppure sostituire a quella del nostro macellaio di fiducia. Lei, le sue origini sono marocchine, quindi ha fatto una battuta al coltello ricca di spezie. Dico bene? Sì, molto spezia, molto speziata. Però poi ha preferito mangiare l'altra, quella con olio, sale e tanta carne. La carne è più sull'italiano, non ha bisogno di spezie. Ebbene, io! Ma di io! Quindi sicuramente non serve niente per aggiungere la gola di solo. Bravo, Uyama, brava, complimenti. Sei pronta, carica, anche tu come le tue collere? Nata pronta. Nata pronta. In bocca al lupo e buona continuazione. Grazie mille. Grazie a te. Numero 23, Arianna De Vallier. 1,75 m, arriva da Treviso. 16 anni, del segno dell'Ariete. In bocca al lupo. Buona sera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. vorresti? Intentare nutrizionista abbiamo portato il nutrizionista dei Vipo, c'è fior di personaggio questa sera, ti è piaciuto il suo corso? immaginavo come ti descrivi a questo pubblico? allora, sono una persona coraggiosa, impasca molto più impastata di solito a Venezia si è una unta e una punta ecco, un po' e un po' come te la stai vivendo in questo momento? sei agitata? l'ansia? non ti rilassare troppo no, perché vi voglio sempre belle, grintose, sorridenti come hai fatto finora e quindi Arianna, in bocca al lupo e buona continuazione grazie mille, buona continuazione numero 24 Asia Pezzano, 1,75 m di Chioggia 16 anni del segno dei pesci non ti rilassare troppo non ti rilassare troppo non ti rilassare troppo invece le catture non ti rilassare troppo non ti rilassare troppo Ben arrivata Asia, tu giochi in casa perché sei proprio di Chioggia Ah sì, oggi sì Ma che ti dicono i tuoi amici che sei qui a far la finale? Sinceramente non lo sa quasi nessuno Come lo sa nessuno? Ah sì E perché? Non lo so Perché non gliel'hai detto? Mi piace tenermi le mie cose per me Cioè caspita e se dovessi vincere che fai? Non lo diciamo nessuno Io dico che ho vinto Ah bene, ovvio Cosa fai nella vita e cosa vorresti fare da grande? Allora nella vita sono una studentessa ed estate lavoro da una mano a mia mamma in hotel come cameriera E da grande vorrei realizzare tutti i miei sogni e insomma punto abbastanza in alto Piano piano realizzerò tutto quello che voglio fare Dice ne uno che siamo curiosi Eh innanzitutto magari vorrei trasferirmi dall'Italia e andare magari non lo so in qualche altro paese un po' più grande Ah vabbè ok e quindi ma sai le lingue? Assolutamente l'inglese lo so dopo 8 anni E allora vai tranquilla Mi sono sempre puntata a impararmi Come ti descrivi a questo pubblico? Allora sono una ragazza attiva, mi piace mettermi in gioco, mi piace affrontare le mie paure e fare nuove esperienze e raccogliere più opportunità possibili per crescere come persona Bene allora cogli anche questa di super opportunità che ti vogliamo davvero grintosa fino alla fine Asa in bocca al lupo e buona continuazione Grazie mille Proseguiamo con la numero 25 Laura Libbi 1 metro e 76 Arriva da Campo Nogara 17 anni del segno del sagittario Ciao Grazie a tutti. E studio in un istituto alberghiero e in particolare mi sono innamorata della materia alimentazione. Quindi non ti chiedo neanche qual era il tuo corso preferito? Esatto, è stato proprio quello fitness dove abbiamo parlato di argomenti che più o meno già sapevo, quindi ero tutta entusiasta. E sei arrivata alla prova del fitness fino alla fine? Certo, fino a fine ero. Bravissima. Come le brave studentesse da 110 e 9? Oh sì. Come ti descrivi a questo pubblico Laura? Allora, a questo pubblico mi descriverei entusiasta della vita, curiosa, sempre curiosa di fare nuove esperienze e molto dolce. E molto dolce. Da grande cosa volresti fare? Allora, da grande mi piacerebbe entrare a far parte del mondo dello spettacolo e magari presentando programmi sportivi mi piacerebbe molto. Adesso, non mai dire mai nella vita, incrociamo le dita. Sei pronta e carica per questa serata? Prontissimo. E allora, in bocca al lupo anche a te e corri a prepararti per le altre uscite. Grazie. Numero 26, Alessia Gaiani, 1,78 m, arriva da Pagola, 19 anni, ed è il segno dei pesci. Alessia Gaiani, 1,78 m, arriva da Pagola, 19 anni, ed è il segno dei pesci. E' arrivata anche a te, Alessia. Ti ho vista bella spedita con una brava padrona di casa, eh? Perché questa è la tua seconda volta qui sul palco. Come ti senti? Buonasera a tutti. Sono emozionata e pronta per questa nuova sfida di mettermi in gioco e da seguire. Ti senti cresciuta rispetto a due anni fa? Molto. Anche grazie ai nostri nuovi corsi di quest'anno, specialmente quello di nutrizione e anche appunto fitness. È tutto veramente una bellissima esperienza e speriamo di concludere al meglio. E incrociamo le dita. Come ti descrivi a questo pubblico? Descrivo determinata, elegante e indipendente. E da grande vorresti? Da grande vorrei rappresentare i grandi aziende brand, come Claudia Sheer. Oh, però, cioè è una cosina proprio da guelire. No, Claudia Sheer, insomma, hai davvero un bel obiettivo da raggiungere. In bocca al lupo la tenacia e la determinazione sono di casa. Buona continuazione, Alessia. Siamo arrivati alla numero 27, Anastasia, un metro e 78 di Ceggia, provincia di Venezia, 19 anni, nel segno del leone. E' arrivata Anastasia. La prima miss che abbiamo eletto quest'anno alla tappa di Jesolo. Esatto. Ecco, e anche per te era il primo concorso. Come ti sei sentita? Benissimo, è emozionata, non me l'aspettavo. È stato bellissimo partecipare, venire qui, fare questa esperienza. La consiglieresti alla tua migliore amica? Sì, e come? Come ti descrivi a questo pubblico? Beh, allora, sono una ragazza divertente, molto sensibile, però sono solare. Mi piace fare nuove avventure, nuovi percorsi. Sono anche un po' spericolata. Ecco, vuoi tu farti in piscina o meglio di no? Ci servi fino a questa sera, dopo puoi fare quello che vuoi. Cosa vorresti fare da grande? Allora, io sicuramente farò la maestra di snowboard in Alto Adige. Ah, caspita, cioè arrivi dalla spiaggia all'Alto Adige. Esatto, faccio la bagnina in questo periodo. Mi piace la natura, mi piace lo sport, faccio anche arrampicata. Ecco, diciamo che uno con una bagnina come te magari fa finta di affogare sul sello. È successo. È successo. Sì, sì, è successo. Cioè, io a Ieso lo vado, adoro tutte le spiagge, ma diciamo che bagnini così, io non mi ho mai dici. Dov'è che fai la bagnina, giusto per capire? È a San Francesco, un villaggio di una bella. Ah, ho capito, ecco, benissimo, perfetto. Allora, diremo ai vari sindaci di andare in cerca di bagnine così per le spiagge. Va bene, Anastasia, ti sei descritta, ci hai detto che vuoi fare da grande. Sei carica per la serata? Carica, molto carica. Agitata? Abbastanza. E allora coditela al massimo, ci vediamo più tardi, in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie, per tanto, buona serata. Vai pure con il microfono a prepararti. Giurati, questi erano le nostre e anche pubblico 27 concorrenti per la finalissima di Miss Venice Beach. Una tra loro sarà la nuova Miss Venice Beach 2022. E questo lo scopriremo solo seguendo la serata fino alla fine e vedendo le prove di tutte le nostre concorrenti, perché questa era quella di primo impatto, quindi di presentazione, seguirà la prova di posa fotografica. Ovvero le nostre miss, sfileranno sul palco, qui sulla passerella, 17 metri, sulla piscina, mi piace dirlo perché è davvero fantastica. Abbiamo quasi voglia di buttarsi in questa serata fantastica. Sfileranno con i gioielli di Lilith Bijou, noi ringraziamo Elisa Zennaro, una chicca di negozio nel rione Duomo in centro a Chioggia. Una piccola botticca ricca di ogni meraviglia, ideata e creata dalla passione e destruosità della titolare Elisa Zennaro, alla ricerca continua di prodotti esclusivi e particolari per il mondo femminile. I suoi gioielli sono interamente made in Italy e questo è davvero un plus per noi di Miss Venice Beach, con la collaborazione anche della regione Veneto andando a promuovere quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, realizzati in acciaio analergico e adatti a tutte le età. Questo per rendere l'universo femminile elegante, sbarazzino, estroso ed unico. Grazie Elisa di avere vestito le nostre modelle. Successivamente, anzi assieme, sfideranno anche con le borse di BGHEY, un nuovo brand italiano, anche questo made in Italy al 100%, che rappresenta lo stile e la tradizione italiana. Le sapienti mani artigiane che realizzano con cura e cucciano a mano ogni singola borsa e pochette, con materiali ricercati che rendono esclusive le loro borse, ma soprattutto le persone che le indossano. I pellami più pregiati, dal pitone al coccodrillo, BGHEY è il tuo modo di vivere lo stile e di essere fashion e speciale. BGHEY sei tu! Allora io vi lascio giurati con la sfilata e posa fotografica, con gli accessori di Lili Bijou e BGHEY, le nostre 27 concorrenti! Allora io vi lascio giurati con la sfilata, Allora io vi lascio giurati con la sfilata, Allora io vi lascio giurati con la sfilata, Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. tutti. perché tutti. 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 . tutti. 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 . 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